Olivier Elu, Francia. 3, 4 minuti. 45 minuti. Sì, come no? 12 minuti. 2, 5 minuti. 2, 5 minuti. 2, 5 minuti. 3, 5 minuti. 3, 5 minuti. 4 minuti. 5 minuti. 5 minuti. One more minute One more minute 13! 13! 14! 15! 15! 15! 15! 15! 15! 15! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Grazie a tutti.